Come si fa a dire di cosa parla un romanzo che prende il via da una corsa ciclistica disputata prima della seconda guerra mondiale e termina nel 2000 in un mondo completamente cambiato? Posso dirvi che Eravamo Immortali non è un romanzo storico. Posso dirvi che Eravamo Immortali non è un romanzo d'amore. Posso dirvi che Eravamo Immortali non è un romanzo di formazione. Però a ben pensarci è anche tutte queste cose insieme. Eravamo Immortali è un romanzo su un'amicizia lunga più di mezzo secolo. È un romanzo di uomini e donne che scivolano lungo la catena degli anni alla ricerca di una propria identità emotiva, di una propria dimensione nel mondo. È la piccola storia, quella dei protagonisti, che si incastra nella grande storia, nell'accadere del mondo.